Questa è sempre l'orologio. Sono nella chiesa di Tunisi, nella cattedrale. Questa è la cattedrale. Guardate, è meravigliosa. Qua è quando stava consacrata la cattedrale. Questa è l'archivescovo. E qua c'è un po' di storia. Questa è 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 un po' di storia. questi sono tutti dei riconoscimenti gente che ha donato per la chiesa ce ne sono tantissimi vedete per delle delle riconoscenze per delle guarigioni e ce n'è tutto una parete ce n'è di qua e anche dall'altra parte è bellissimo è stupendo è molto bello queste sono le due candele che ho acceso il parroco qua è italiano questo è l'altare maggiore il mio buon Gesù l'organo e quella è l'entrata questa è la fonte battesimale è qui è l'organo ci sono le due tutte le due è l'organo c'è il pubblico è più è più che è più Grazie a tutti.